Al terzo mese di gravidanza ha rischiato la vita i medici del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Vittorio Emanuele, però hanno evitato il peggio. Sono stati proprio gli specialisti ad accorgersi di una gravissima complicanza che ha indotto una giovane a rivolgersi al nosocomio di capo soprano. Inizialmente lamentava dolori al ventre, i medici hanno deciso di sottoporla da accertamenti più accurati scoprendo che era in corso un'emorragia. Inmediata è stata la decisione di sottoporla di intervento chirurgico d'urgenza e in questo modo è stato possibile salvaguardare il feto ed evitare conseguenze drammatiche alla giovane. Quanto accertato dall'equipe, molto raro anche secondo i parametri della casistica al suo arrivo in ospedale, la paziente presentava già sintomi preoccupanti. Un eventuale ritardo avrebbe potuto aggravare il quadro clinico facendolo diventare irreparabile. Dopo l'intervento chirurgico e il successivo ricovero, la giovane proprio nelle scorse ore è stata dimessa e la gravidanza procederà senza ulteriori rischi anche se verrà monitorata. Gli accertamenti ulteriori sono partiti proprio davanti ai sintomi della giovane. In questo modo i sanitari sono riusciti ad individuare una complicanza che avrebbe potuto seriamente mettere a rischio la vita dell'ADON.